Ben ritrovati! L'argomento di oggi è come vendere una casa in maniera alternativa. Se hai pensato che per vendere o acquistare una casa esista solo un modo, ti dovrai ritredere. Vi sono dei contratti particolari, alternativi alla normale compravendita, che sono stati studiati per risolvere le esigenze dei venditori e degli acquirenti. Sicuramente sono metodi poco utilizzati rispetto a quello che siamo abituati ad impiegare, ma la conoscenza di queste tipologie di vendita potrebbe tornare utile. Ti anticipo che abbiamo analizzato singolarmente queste metodologie di vendita, per cui nel video di oggi sarà una panoramica. Se vorrai approfondire il discorso potrai cliccare sui link elencati nell'articolo relativo a questo video e naturalmente nel nostro sito potrai farti una bella carrellata, soprattutto relativamente alla compravendita con riserva di proprietà, al rent to buy, alla vendita rata con iscrizione di ipoteca, alla locazione con patto di futura vendita e alla permuta. Bene, vediamo le alternative alla compravendita classica. Iniziamo. La compravendita con riserva di proprietà è una metodologia di acquisto a rate e uno degli elementi fondanti è che l'acquirente diviene proprietario solamente dopo il pagamento dell'ultima rata. Nel lasso di tempo che passa dall'accordo al pagamento dell'ultima rata, l'acquirente acquisisce il possesso e con sé tutti i diritti e doveri impliciti. Il contratto che stabilisce i modi e i criteri di pagamento è un atto notarile ed in questa fase verranno pagate le imposte come se si trattasse di una normale compravendita. Con questo tipo di accordo il proprietario dell'immobile mantiene i propri diritti, in sostanza è ancora il titolare del bene e avrà diritto, in caso di inadempienza dell'acquirente, ad un rimborso per il godimento della casa più un indennizzo. Dall'altro lato l'acquirente, che è il vantaggio di godere dell'immobile, ha dei doveri quali la manutenzione della casa e terrà per sé gli eventuali svantaggi legati al deperimento del bene. Se vuoi conoscere altri particolari ti segnalo l'articolo che trovi sul nostro link nel nostro sito ricasare.com e nel blog dedicato a questo, l'articolo e il video relativo alla compravendita con riserva di proprietà. Passiamo ora all'argomento successivo, il rent to buy, nel quale ci siamo profusamente già espressi. Nel rent to buy il potenziale acquirente, che viene definito conduttore, troverà un accordo con il proprietario dell'immobile, chiamato concedente, per poter possedere il bene ed eventualmente acquistarlo entro un certo periodo di tempo. Normalmente un contratto di rent to buy non dura più di 10 anni. Dal punto di vista contrattuale, nel rent to buy vi sono due atti, il preliminare ed il definitivo. Quest'ultimo è opzionale perché il conduttore non è obbligato all'acquisto. Nel preliminare verranno messi nero su bianco gli accordi mediante un atto notarile e quest'ultimo verrà trascritto nella Conservatoria dei registri immobiliari. E' obbligo del conduttore versare dei canoni che saranno imputate in parte al godimento del bene. Potremmo parlare in questo caso di un affitto e di una seconda parte destinata ad abbattere l'importo di acquisto. In quest'ultimo caso possiamo considerare questa quota come un anticipo sul prezzo finale. La prima domanda che ci poniamo è questa. Se il conduttore decide di non comprare, cosa accade? Il concedente tratterrà tutte le somme destinate al godimento e dovrà restituire quelle considerate come acconto sul prezzo finale. Proprio per questo motivo nel rent to buy la somma destinata all'affitto è una voce molto importante. Questi erano gli aspetti principali del rent to buy. Su questo argomento, come vi dicevo, ci siamo profusamente espressi e troverai molti articoli e video sempre nel nostro sito e nel nostro blog proprio sul rent to buy. Vediamo ora il successivo argomento, la vendita rate con iscrizione di ipoteca. E' un tipo di contratto poco utilizzato ed è quello più simile ad una normale compravendita. Si svilupperà questa vendita con un atto notarile dove l'acquirente acquisirà la proprietà nella sua interezza anche se non pagherà l'intero importo pattuito al momento della vendita. Il pagamento è dilazionato ed il venditore si tutelerà con iscrizione di un'ipoteca che viene definita legale. Quali sono i motivi per cui questo metodo risulta poco impiegato? Quello principale è che il venditore, seppur garantito da una solida ipoteca, nel caso di inadempienza dell'acquirente dovrà avviare, nella peggiore delle ipotesi, un'esecuzione forzata. Quest'ultima non è sicuramente il metodo più veloce per ottenere giustizia. Il secondo motivo è anch'esso di natura economica e deriva dal fatto che iscrivere un'ipoteca legale è cancellarla a costi elevati. Anche qui se vuoi leggere l'articolo e vedere il video in merito, ti segnalo appunto quello intitolato la vendita rate con iscrizione di ipoteca. Passiamo ad un altro metodo ancora, l'allocazione con patto di futura vendita. Nell'allocazione con patto di futura vendita avremo due contratti, uno di affitto ed un preliminare di vendita. Si potrà pagare un canone mensile più una caparra oppure un canone composto da godimento e caparra. Possiamo dire che questo tipo di contratto è meno completo rispetto al rent to buy, soprattutto se ci focalizziamo sulla trascrizione del preliminare. Nel rent to buy la trascrizione mantiene infatti i suoi effetti per dieci anni, nel patto di futura vendita, come negli altri preliminari, la sua massima estensione in tre anni. La trascrizione, come abbiamo già detto varie volte, è una forte garanzia che tutela l'acquirente e considerando che la durata del contratto è generalmente più lunga dei tre anni, ci si espone ad eventuali problematiche debitorie del venditore. Abbiamo analizzato anche questa evenienza nell'articolo dedicato appunto al video all'allocazione con patto di futura vendita ed in quello relativo proprio alla trascrizione del preliminare. Per cui ti segnalo anche qui gli articoli ed i video relativi. Vediamo ora l'ultimo argomento, la permuta immobiliare. La permuta immobiliare, alla pari degli altri contratti, non è particolarmente diffusa. Questo non deriva da una questione di garanzia sulla sicurezza, ma da ragioni di opportunità. Probabilmente sai già cosa è una permuta immobiliare, ma è doveroso dare una definizione. È sostanzialmente lo scambio di due proprietà, nel nostro caso di immobili. La difficoltà maggiore a cui si accennava è quella di trovare un reciproco gradimento dei beni oggetto della potenziale permuta. Travolta è l'attribuzione dei valori considerati eccessivi o troppo bassi a far declinare un accordo. In ultima battuta potremmo considerare anche eventuali presenze di pregiudiziali, quali le ipoteche. Se si superano tutti questi aspetti, per mutare l'immobile è semplice e garantisce un risparmio. Perché si pagano gli oneri notarili come se si vendesse o acquistasse un singolo bene. Inoltre le imposte catastali, ipotecarie e di registro andranno calcolate solamente su un immobile. Anche qui se vuoi approfondire l'argomento nel nostro sito, nel nostro blog, puoi provare degli articoli, dei video relativi proprio alla permuta. Questa è stata una panoramica generale veloce sui metodi di acquisizione di un immobile in alternativa alla normale compravendita. Spero di esserti stato di aiuto, che abbia gradito. Ti invito a seguirci sui social, a dimostrare il tuo gradimento e a condividerlo con i tuoi contatti. Io ti auguro una presto. Io ti auguro una presto.